In occasione della Festa della Repubblica, anche quest'anno la città di Agropoli celebra la Giornata Celebrativa Nazionale, istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Si festeggia ogni anno il 2 giugno, data del referendum istituzionale del 1946, con il quale gli italiani, al termine della Seconda Guerra Mondiale, vennero chiamati alle urne per decidere quale forma di Stato, Monarchia o Repubblica, dare al Paese. Il programma della manifestazione ad Agropoli prevede alle ore 10 in Piazza della Repubblica il concentramento dei rappresentanti delle associazioni partigiane, combattentistiche d'arma, accoglienza delle autorità civili e militari. A seguire alle ore 10 partirà il corteo da Piazza della Repubblica, che proseguirà per Via Piave fino ad arrivare al Monumento dei Caduti, accompagnato dalla banda musicale Città di Agropoli. Alle ore 11.30 è previsto l'alza bandiera e deposizione della corona, dopodiché seguirà l'intervento delle autorità presenti. Anche il Comune di Capaccio Pestum celebra la Festa della Repubblica con un programma ricco di appuntamenti. Si parte sabato 2 giugno alle 16.30 a Capaccio Capoluogo, con il raduno dei partecipanti in Piazza Vittorio Veneto e la deposizione di una corona d'allora al Monumento dei Caduti. Il programma prevede alle 17, sempre a Capaccio Capoluogo, un corteo per le vie cittadine, fino a giungere ai giardini pubblici, dove vi saranno i saluti del sindaco Franco Palumbo e delle altre autorità presenti. Alle 18 sarà ufficiata, sempre in Piazza Tempone, la Santa Messa da Don Vincenzo Fiumara e alle 18.30 seguirà il taglio della torta con la bandiera italiana. Infine, alle 20 a Capaccio Scaolo ci sarà l'intitolazione dell'area fontana di Via Fornilli, di recente recuperata dall'amministrazione comunale a Francesco Cortese, per tutti Ciccio, un reduce della Seconda Guerra Mondiale. Celebrazioni anche a Castellabate, con due appuntamenti legati alla memoria storica nazionale e locale. Si parte venerdì 1 giugno alle 18 in Piazza Matarazzo a Castellabate Capoluogo, con la manifestazione Castellabate nella Prima Guerra Mondiale, Uomini, Vicende e Musiche, e l'esibizione del concerto bandistico Santa Cecilia, diretto dal maestro Leo Capizzuto. La mattina seguente, sabato 2 giugno alle 10, si terrà un raduno in Piazza Matarazzo a Santa Maria. Il corteo ha la presenza di autorità civili, militari e religiose e dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia Gruppo di Castellabate. Sfilerà sul Corso Matarazzo e sosterà in Piazza Lucia per l'Alza Bandiera le allocuzioni e la deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti. Sfilerà di Piazza